Ciao ragazzi, sono Adrion. Nella vita di tutti i giorni sono un ragazzo normale. Beh, quasi. Perché mio padre è Gabriella Grest. Un grande stilista di fama mondiale. A volte faccio da modello per lui, posando per le sue campagne pubblicitarie. Non mi dispiace, ma non è quello che voglio fare da grande. In realtà lo faccio solo per far felice mio padre. Da quando mamma è scomparsa non è più lo stesso. Quindi io cerco di stargli vicino. Ogni giorno la sua assistente Nathalie si prende cura di me. Il suo programma, Adrion. Grazie, Nathalie. Lei è il gorilla. Lo chiamo così perché è enorme e non parla mai. Proprio come un gorilla. Mi porta a tutte le mie attività. Tra servizi fotografici, scherma, lezione di cinese e pianoforte, non ho molto tempo per me. Non riesco a godermi la mia fantastica stanza o a invitare i miei amici per giocare insieme. Ecco perché sono felice di andare a scuola. Lì vedo i miei amici, soprattutto Rino, a cui dico tutto. Ok, va bene, quasi tutto. L'unica cosa che non posso dirgli è che quando non sono Adrion, sono Chat Noir e proteggo Parigi dai super cattivi. Essere Chat Noir mi ha cambiato la vita, perché fino a poco tempo fa non potevo nemmeno andare a scuola. Mio padre non mi faceva uscire di casa. Il mio cuomi si chiama Plug. Il suo pensiero fisso è il cibo, specialmente il camembert puzzolente. Sono esausto! Il mio povero corpo dolorante non riesco più a muovermi! È pigro, ma grazie a lui posso trasformarmi in un supereroe. Plug, trasformami! Deve solo entrare nel mio Miraculous, l'anello che indosso sempre, e bam! Mi trasformo! Plug mi dà anche il mio superpotere. Cataclisma! Con questo potere distruggo qualunque cosa tocco, ma non posso sbagliare, perché dopo averlo usato ho solo 5 minuti prima di ritrasformarmi. Poi Ladybug deve catturare la kuma del cattivo, Niente più male fatte, piccola kuma. E il gioco è fatto! Presa! Essere chanoire è fantastico. Finalmente posso fare quello che voglio e dire quello che mi passa per la mente. Che ne dici di farla finita? In più, salvo Parigi con Ladybug. In breve, è una grande pausa della mia vita a casa. Quando sono chanoire, mi diverto un mondo. È ora della mia lezione di cinese. Il gorilla mi starà aspettando. Meglio che vada. E chi lo sa, forse oggi dovrò salvare di nuovo Parigi. A più tardi!